E' stato un po' il pensiero unanime, quello espresso ieri dal sindaco Ricci e dal senatore Pierferdinando Casini, nel ricordare l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, il pesarese Arnaldo Forlani, descritto da entrambi come il più grande politico che le Marche abbia mai avuto. Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 6 luglio scorso all'età di 97 anni, la città di Pesaro ha deciso di recuperare all'assenza mostrata ai funerali di Stato dell'ex esponente della democrazia cristiana, programmando per ieri pomeriggio un consiglio comunale monotematico. Per l'occasione l'incontro politico si è tenuto all'interno della rinnovata Sala della Repubblica del Teatro Rossini, luogo intimamente centrale della storia di Pesaro, che lo stesso Forlani aveva riaperto nel 1980 dopo anni di lavori. Assise che si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare anche la recente dipartita dell'ex vice sindaco Barbanti e del consigliere comunale Biagiotti, prima di lasciare spazio ai numerosi interventi delle figure istituzionali presenti nel ricordo dell'impronta lasciata da Arnaldo Forlani nella sfera politica nazionale. Era un politico con la P maiuscola, con il percorso fatto di studio, di impegno, di crescita all'interno di partiti che all'epoca erano vere e proprie strutture in grado di formare e di cogliere il talento dei migliori facendoli crescere. Ed è stato sicuramente per la nostra città il politico più importante mai avuto, senza ombre di dubbio. È stato un uomo potente, molto potente, un uomo che ha guidato la democrazia cristiana, che ha guidato il governo, la democrazia cristiana per ben due volte. Ed è stato però, mentre aveva ovviamente la testa e il corpo impegnati in tanti contesti nazionali e internazionali, contesti nazionali anche di grandi difficoltà, pensiamo a tutto il periodo del terrorismo, delle Brigate Rosse, uno dei momenti nei quali comunque aveva massimi ruoli all'interno del partito e del governo. Mai però ha dimenticato la sua città. Magari senza metterlo in evidenza troppo, senza prendersi troppi meriti. C'è il suo zampino in tante questioni che riguardano questa città e questa provincia. Marco prima ricordava il teatro. In questi giorni si riparla molto della Fano Grosseto. Abbiamo svolto un'edizione del Rossini Opera Festival straordinaria. Ma se il Rossini Opera Festival è ciò che è, perché nel 1980, nonostante fosse proposto da un'amministrazione comunale comunista, comunisti e socialisti, vedi in Forlani un grande sostenitore nella capacità poi di avere in Parlamento una legge in grado di finanziarlo. Ed è curioso come si è emerso da questo territorio, da un consiglio comunale nel quale lui è sempre stato minoranza. Una figura e un talento politico di questo tipo. Questa non era un luogo, diciamo, tipico, o un luogo, diciamo, di maggioranza democristiana. Eppure, nonostante questo, come dire, partendo dal consigliere comunale d'opposizione, è diventato una delle persone più importanti della politica italiana per almeno 30 anni. Ospite d'eccezione il senatore Casini, da giovane braccio destro dell'ex leader Scudo Crociato, Pesarese. È chiaro che il suo ricordo si intreccia in modo indissolubile con quella che è stata la storia di una fase del nostro paese che è culminata nel 48 e che è finita sostanzialmente con la fine politica di Arnaldo Forlani e di una generazione importante dei leader politici. Con la sua compostezza, spesso criticata, ci ha insegnato il senso relativo del potere e delle cariche. Guardate, questo è un punto fondamentale. Che cosa ho imparato io da Forlani? Ho imparato che non siamo padroni del nostro destino, che bisogna imparare anche tra di noi a non prenderci troppo sul serio, di avere quel senso di autoironia. Il più delle volte il frenetismo che caratterizza i politici, a cui lui era del tutto alieno e anzi molto insofferente. Mi ricordo anche quando io all'inizio, che era un po' dinamico, diciamo così, lo pressavo e a volte capivo proprio che gli davo fastidio perché lui era abituato a pensare e a pensare e poi a decidere. Tutto il frenetismo che gli mettevamo perché ci doveva dire una cosa importante, perché la cosa era urgente, lo infastidiva, perché aveva proprio questo senso del limite.